L'atmosfera è semplicemente incredibile, è anche il casino più grande della Svizzera. Allora io punto 1.500, mi piace molto giocare soprattutto alla roulette blackjack, salute la nostra vittoria, anche per avere un drink o passare del tempo con gli amici, anche per questo è divertente. Sì, avere pazienza, aspettare, con la pazienza al momento arriva, e poi avere un gruppo che ti porta fortuna, anche quello è utile. Grazie.